Noi persone sensibili, facciamo tutto col cuore, e anche se abbiamo cicatrici, non ci cambieranno mai, continueremo a fare tutto col cuore, perché non è una scelta, è un modo di essere, un modo di vivere. Grazie mille per restare con Just Money Wall, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, grazie, un abbraccio forte.